Serviranno esami genetici per arrivare alla piena identificazione del corpo di Giulio Romano, 56enne di Casalbordino, una delle tre vittime dell'esplosione di una settimana fa. Dopo l'ultima autopsia conclusa in mattinata, il riconoscimento del corpo di Gianluca De Santis, operaio molisano quarantenne, da parte dei familiari. Il primo funerale domani alle 16 a Lanciano per Fernando Dinella, 62 anni. Troppi lutti per un territorio che sull'esplodente Sabino contava molto a livello occupazionale, abbiamo incontrato l'avvocato della vittima del 92. Ogni volta che c'è una tragedia, mi ricorda sempre questo episodio brutto, ma quanto pare si ripete nel giro di 30 anni. A quali conclusioni eravate giunti allora? Che le misure di sicurezza non erano osservate, non solo, ricordo pure che degli operai erano assunti come braccianti agricoli addirittura all'epoca. I sindaci fanno fronte comune. Bisogna mettere in sicurezza il sito e l'azienda, ma è anche vero che bisogna salvaguardare 70 famiglie, che per noi diventa un problema, soprattutto per i sindaci, per questo territorio. Perdere un'azienda sarebbe veramente un dramma. È in questo stabilimento a Pollutri che si spera possano essere ricollocati, almeno in parte, gli operai dell'esplodente Sabino. Recupero materiali delle batterie, nulla a che vedere con l'esplodente Sabino. Quanto è concreta questa ipotesi? No, l'ipotesi è concretissima, perché stanno solo aspettando le ultime autorizzazioni da parte dell'Arta, da parte della Regione e logicamente da parte nostra e del Comune, ma io già sono andato un paio di volte a visitare l'azienda, già ci sono i macchinari, è tutto pronto. Grazie a tutti.